Calderoni Calderoni Fatto in quarantena Calderoni Vado fatto in quarantena Don Giacomo Calderoni 5 minuti Pappia Aurelia un incidente sta causando una coda tra lo svincolo 25 via Laurentina e lo svincolo 23 2 minuti Solo musica italiana e il vostro tempo Tempo importante Fino a ieri non avevamo il tempo Oggi ce l'abbiamo tutto quel tempo che ci serve per fare ... ... ... ... ... il nostro pomeriggio insieme oh buzzi ma quello non è speedboy? ma che è matto? questo mese è la quarta volta che in bocca lo d'accordo vuole rischiare serio ma non è matto giustamente se perde il lavoro che ci resta per vivere no tanto meglio morire essere ricordato come eroe salve lei si chiama marco rigazzi vado a leggerle il documento autocompilato a lei riferito il sottoscritto marco rigazzi conducente del motociclon da elix targato bz 06 192 assume tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività a cui di seguito elencate transito di attraversamento del grande raccordo anulare zig zag tra le bande di anticonformisti che hanno rinnegato la civiltà per viverne la violenza di un ambiente distopico accampatisi abusivamente nel suddetto tratto stradale interessato dall'attraversamento includendo a titolo esemplificativo e non limitativo tutti i rischi che ne possono derivare da negligenza da parte di persone e cose che hanno queste ultime pericolose e o difettate sono consapevole che potrei essere fotografato ripreso accette d'autorizzo che la mia immagine possa essere utilizzata per scopi legittimi da giornalisti in caso di scompazzo o decesso dichiaro di aver letto questo documento e di averne compreso completamente il suo contenuto sono consapevole che questa è una dichiarazione di esonero di responsabilità che firmo in piena libertà. Consente? Consento. Consente se scopri leyori della violenza di parte la possizia di far più dimentic Especially Fire Ma stai zitto, scemo, questo è una ma baratta i magazzini rossi per i gomme 9 Ma dove sta sto corriere? Cazzo, ma non è possibile, ha pure ordinato con Prime Cioè io me c'ho una videocamata su Zoom con una, ma io me faccio a rimorchiare senza internet